In palestra non ci vado mai volentieri, però mi costringo perché penso che quando poi divento un poco più vecchia e mi guardo allo specchio, mi vedo meglio e non mi viene tanto la depressione. La palestra mi fa venire scocche rosse, proprio come quando ero piccola e abitando in campagna e giocando all'aperto, il vento me li faceva venire. Allora andavo a scuola e i miei compagni mi chiamavano Biancaneve e io mi vergognavo perché pensavo che le scocche venissero soltanto a chi abitava in campagna. Pure voi non ci andate volentieri in palestra?